A poco più di un mese dalla sentenza del Consiglio di Stato in ordine alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo delle navi traghetto, che sembrava l'apertura di uno spiraglio in favore delle compagnie armatoriali, ovvero della possibilità di svolgere determinate operazioni avvalendosi del personale di bordo, è arrivato un chiarimento importante direttamente dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Rispondendo al Question Time, conseguente a un'interrogazione presentata dal PD, il ministro ha dichiarato che la normativa non afferma alcun diritto delle imprese di navigazione all'autoproduzione con personale di bordo, confermando che deve essere utilizzato personale di terra nei limiti previsti dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge del 1994. Ha poi aggiunto che non c'è nessuna liberalizzazione delle attività portuali per le operazioni di rizzaggio e derizzaggio e che d'altronde tale prospettiva è oggi impossibile tenendo conto dei vincoli normativi esistenti. Il ministro ha poi ricordato che la disciplina di settore era stata modificata nel 2020 per fronteggiare le emergenze derivanti dal Covid. In quell'occasione si era previsto che l'autoproduzione fosse ammessa solo qualora non fosse possibile soddisfare la domanda di svolgimento delle operazioni tramite l'intervento dei lavori portuali, la cui tutela, ha aggiunto rivolgendosi al PD, sta a cuore a voi come a me. Secondo il ministro poi le recenti sentenze sottolineano i vincoli normativi per lo svolgimento in autoproduzione di operazioni di rizzaggio e derizzaggio da parte degli armatori, ribadendo che gli stessi sono tenuti a evidenziare il personale aggiuntivo rispetto a quello indicato nella tabella di armamento della nave e che lo stesso deve essere dedicato esplosivamente allo svolgimento delle operazioni portuali. Salvini ha concluso il suo intervento spiegando che il ministero e l'autorità di sistema portuale continueranno a monitorare la corretta applicazione della disciplina in materia perché da queste regole dipende lo sforzo comune a tutelare le prospettive occupazionali del lavoro portuale, nonché la qualità e la sicurezza dei relativi servizi.